Sebastiano Manzo, 21 anni di Vico e Quenze, Alfredo, Pasta Caldi di Cancello e Arnone sono i due vincitori del trofeo della Mura che si è svolto nell'ambito di pizza a Vico 2019. Primi classificati, rispettivamente nella categoria pizza classica tradizionale e creativa, hanno sbaragliato gli altri concorrenti. Sì, era una pizza che chiamava proprio il territorio, cioè le nuci del Sorrento, il provolone, il pesto, il basilico. Significa tanto, significa che sto lavorando bene e penso di continuare ancora molto meglio in futuro. Non mi aspettavo di vincere, sono venuto comunque, mi sono fatto quasi 80 chilometri per venire a partecipare a questo trofeo che per me è importante. Dietro di loro si sono piazzati Simone Francesco e Mario Bosco per la categoria pizza classica e Sebastiano Manzo e Pasqualino De Simone per quella creativa. Soddisfatto il direttore di pizza a metro Giovanni Riviecio. Puntiamo molto sui giovani, anche sul posto di lavoro nel nostro locale tendiamo sempre a favorire i giovani. E giusto loro devono andare avanti, imparare e essere stimolati in questo, nella tradizione e nella qualità della tradizione. Quindi rispettando sempre i canoni della vecchia pizza a metro esce la nuova pizza a metro. Finalmente nel bassissimo e variegato mondo delle competizioni di settore si è affacciata anche la pizza a metro, questo è il pensiero di Carmine Caputo. Questo è un fenomeno che adesso, ora che i vichiani hanno cominciato a girare, anche loro invece di rimanere un po' troppo isolati nel loro castello di Vico e hanno cominciato a farsi conoscere il mondo anche grazie a noi che spesso li abbiamo portati in America, in vari posti, in altre cose. Adesso la pizza in teglia e la pizza nel forno così è abbastanza diffusa nel mondo e forse è un fenomeno che si sta, secondo me, crescendo in maniera abbastanza evidente e anche abbastanza forte. I vincitori del Trofeo della Mura andranno di diritto al campionato mondiale del pizzaiolo Trofeo Caputo, che si svolgerà a settembre sul lungomare di Napoli. Un passo importante perché in questo modo la pizza a metro avrà una categoria dedicata e anche i maestri dell'impasto a metro potranno essere definiti pizzaioli, così Sergio Micù, presidente dell'Associazione Pizzaioli Napoletani. L'arte del pizzaiolo è un'arte diversa da quella che poi è stata riconosciuta dall'UNESCO.